di chi hai paura imbecille della gente che sta a guardare dei posteri per strano caso basterebbe una cosa da niente riuscire a essere te stesso con tutte le stupidità attinenti ma autentico indiscutibile la sincerità assoluta sarebbe di per se stesso un documento tale chi potrebbe muovere obiezioni questo è l'uomo uno dei tanti se volete ma uno per l'eternità gli altri sarebbero costretti a tenerne conto stupefatti questo è il primo pezzo di un libro meraviglioso che io vi consiglio che si intitola in quel preciso momento ed è un diciamo una summa di piccoli racconti di pensieri di e questo si intitola la formula e in questa in queste quattro cinque righe si era chiuso proprio buzzati la sua profonda onestà intellettuale non si è mai nascosto dietro niente non ha mai voluto rappresentare o far apparire quello che lui non era